A Daci Reale il Consiglio Comunale approva l'istituzione delle guardie ambientali volontarie, avranno funzione di educazione sul corretto conferimento dei rifiuti. La fiamma tricolore sollecita da Cisant'Antonio la bonifica dei luoghi con un intervento da parte del Comune, scaduta infatti l'ordinanza rivolta ai privati. Ancora polemiche sulla graduatoria dei cari allegorici, il cantiere Scalia Fichera lamentando il mancato confronto disconosce la fondazione. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. All'interno del nostro telegiornale parleremo anche della cronaca con l'arresto da parte della polizia di due spacciatori ad Acireale. E poi Sanità, la CGL, Funzione Pubblica, lamenta una serie di disfunzioni nell'ospedale di Acireale. E' stato chiesto infatti un incontro al direttore sanitario. E poi l'incontro ieri sera presso la sala conferenze dell'Associazione Costarelli, dove sono stati presentati due testi dal titolo Da Donna a Donna e vi canto una storia della soprano Katia Ricciarelli. Oggi è stata invece in visita all'Istituto De Gasperi di Aci Sant'Antonio. Ma apriamo il nostro telegiornale con la politica parlando proprio del Consiglio Comunale, dove è stato votato l'istituzione delle guardie ambientali volontarie, che come dicevamo in apertura avranno la funzione di controllo per quello che riguarda la raccolta differenziata. I dettagli nel servizio. Vigilanza ambientale. Ai sette soggetti attualmente impiegati in questo servizio, presto se ne aggiungeranno altri, almeno una ventina. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera l'istituzione delle guardie ambientali volontarie. Il comandante della Polizia Municipale, Antonio Molino, incaricato dall'Amministrazione di redigere il regolamento per implementare l'azione volontaria di contrasto all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, ha già raccolto la disponibilità di un'associazione pronta a scendere in campo con i propri volontari, altre 16 persone da affiancare ai sette attualmente impiegati per la vigilanza ambientale. Il Consiglio Comunale di Acireale, come detto, ha approvato ieri sera all'unanimità il regolamento per l'istituzione della figura di guardia ambientale comunale volontaria. La delibera, approvata dalla Giunta, è stata presentata in aula dal comandante Antonio Molino, incaricato dall'Amministrazione di redigerne il regolamento. Considerati i casi che continuano a verificarsi quotidianamente su tutto il territorio comunale, ha spiegato Molino, i sette soggetti attualmente impiegati sono insufficienti. Ho voluto dare al regolamento, ha poi continuato Molino, un taglio diverso rispetto a tanti comuni, in linea con la giurisprudenza in materia. Le guardie non avranno una potestà di accertamento propria, ma in quanto volontari incaricati di pubblico servizio, avranno la possibilità di fare segnalazioni opportune e documentate, che diventeranno verbali di accertamento fatto proprio dalla Polizia Municipale e notificato all'utente. Alla approvazione del regolamento seguirà adesso la stipula di un protocollo di intesa e di apposite convenzioni con associazioni e cittadini interessati. Questo strumento, commenta l'assessore alle politiche ambientali, Francesco Fichera, ci consentirà di avere più figure sul campo. Ci interessa che abbiano intanto funzione di educazione sul corretto conferimento dei rifiuti. L'aspetto repressivo non può non esserci. Ci consentirà di mettere ordine, in modo che ad Acireale non si parli della differenziata come rivoluzione, ma ordinarietà conquistata nel 2017. Nella seduta di Consiglio Comunale, svoltasi nella ricorrenza della giornata internazionale contro il razzismo, la consigliera Mariella Bonanno ha chiesto ai colleghi di osservare un minuto di silenzio a commemorazione delle tante vittime del mare che volevano raggiungere il territorio italiano per scappare da una guerra ingiusta. Gli immigrati, ha osservato la Bonanno, non sono da considerarsi come dei nemici, ma esseri umani e come tali vanno trattati, favorendo la loro integrazione sociale e quindi consentendo loro di contribuire alla crescita economica della società in settori che da troppo tempo sono stati abbandonati, come quello artigianale o quello agricolo. La cronaca. Due spacciatori sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Acireale durante l'attività di controllo del territorio, finalizzate in particolare al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. In manette sono finite Antonino Barbagallo, 25 anni e Manuel Longo, di 18. Entrambi dovranno rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Nel pomeriggio di ieri una volante transitando per via Loreto ha notato un'autovettura proveniente dal senso di marcia opposto con tre individui a bordo. Il conducente dell'auto, accortosi della presenza della polizia, ha tentato di sviare l'attenzione. introducendosi all'interno di un'area di servizio ubicata in quella via. I poliziotti che avevano già avviato le procedure per bloccare l'auto sospetta l'hanno seguita immediatamente. Giunti nel piazzale l'auto si è fermata e mentre il conducente simulava un controllo degli pneumatici, un altro individuo con una mossa a fulmine è sceso dal mezzo e ha lanciato un involucro oltre il recinto delimitante l'area di servizio. Ma la mossa non è sfuggita ai poliziotti che hanno bloccato i tre. È superato il recinto o recuperato l'involucro che è risultato contenente circa 100 grammi di marijuana. I due sono stati condotti in commissariato e dopo i necessari approfondimenti investigativi sono stati arrestati. Per loro il PM di turno ha disposto il regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio. Andiamo a Santa Venerina invece dove sono stati donati due defibrillatori alle associazioni sportive del territorio. L'amministrazione comunale ha consegnato proprio a queste associazioni che fruiscono del campo di calcio di Via Trieste il secondo dei due defibrillatori acquistati nei mesi scorsi. L'altro è già stato consegnato nelle settimane precedenti all'istituto comprensivo Alessandro Manzoni per l'utilizzo in ambito scolastico e per l'utilizzo della palestra messa a disposizione delle associazioni in orario extrascolastico. L'iniziativa dell'acquisto dei due defibrillatori è nata su impulso della consigliera Sandra Patanè del gruppo Passione, Impegno e Lealtà ed è stata apprezzata e condivisa dalla Sindaco, dalla Giunta e dalla Presidente del Consiglio. I defibrillatori e i corsi di formazione per il loro utilizzo sono stati finanziati con il contributo degli amministratori ed è con la rinuncia ai gettoni di presenza della consigliera Patanè. La presenza di questi nelle strutture sportive del territorio ha un significato importante perché significa aggiungere un fattore di sicurezza in più. Alla consegna erano presenti il Sindaco Salvatore Greco, il Vice Sindaco Giuseppe Fresta, una parte dei consiglieri, la responsabile del settore cultura, sport, turismo e servizi sociali, Sebastiano Calì. All'anno è processionaria nella frazione Sant'Antonese e Santa Maria della Stella. La fiamma tricolore sollecita il Comune ad effettuare la dovuta bonifica, scaduti i termini dell'ordinanza, infatti emessi in tal senso dalla Sindaco, nei confronti dei privati. Processionaria, questione da affrontare in tempi brevi fin quando con i primi tepori primaverili, questo parassita di alcune specie di alberi, soprattutto del pino, può provocare conseguenze notevoli, anche nefaste, nell'uomo e negli animali attraverso i suoi peli urticanti. Sono scaduti ieri i termini dell'ordinanza del Sindaco Santo Caruso ad Aci Sant'Antonio per procedere alla bonifica delle piante presenti sul territorio in aree private, il tutto con l'obiettivo appunto di fare fronte a questa emergenza, segnalata in primo luogo dal segretario della fiamma tricolore Salvatore Contarino, con zona rossa soprattutto nella via Quasimodo di Santa Maria della Stella. Oggi il segretario della fiamma tricolore torna alla carica sollecitando i dovuti interventi. Abbiamo fatto una richiesta scritta, protocollata all'amministrazione affinché pretendesse provvedimenti, da subito il Sindaco ha emesso un'ordinanza dando 15 giorni di tempo ai legittimi proprietari dei terreni, però ieri sono scaduti 15 giorni e ancora la processione è presente. Sappiamo benissimo i danni che possa regare questo insetto, quindi chiediamo in modo immediato che l'amministrazione prenda provvedimenti, anche a suo carico per poi mandare la fattura ai legittimi proprietari. È chiaro che un intervento di questo deve essere fatto in sommo urgenza perché anche nella zona c'è una scuola materna, per tanto passano bambini, passano animali domestici, è molto pericoloso. Si chiede a più presto che venga bonificata non solo quest'area, ma tutte le zone che sono interessate da processionaria. Fa eco a Salvatore Contarino, un residente, Enzo Cardaci, che esprime preoccupazione per la situazione esistente. Mi è stato detto che il via Camillo Barbagallo si è avuto un primo caso di puntura di questi insetti o di questi vermicelli o queste cose che cadono dalla processionaria, un signore che è passato e ha dovuto ricorrere a delle cure urgenti per evitare il peggio. Io sono residente qua e questa è una strada molto trafficata, passano bambini, decine di centinaia di bambini che vanno alla scuola materna, alla scuola elementare ogni giorno. È stato segnalato il pericolo più volte alla Polizia Municipale di ACI Sant'Antonio e al Sindaco. Vedo che ancora oggi il Comune stesso come mai non riesce a rintracciare i legittimi proprietari del terreno per evitare il peggio. Il Sindaco Caruso, dal canto suo, scaduti appunto i termini dell'ordinanza, ha fatto sapere che, eseguita la mappatura delle zone a rischio dove è presente la processionaria, si procederà da parte del Comune in danno ai proprietari che non si sono attivati nell'eseguire le bonifiche richieste. Ritorniamo a parlare del Carnevale di ACI Reale edizione 2017. L'Associazione Culturale Scalia Fichera tramite un comunicato riferisce come ancora non è stato dato alcun chiarimento come richiesto in merito alla graduatoria. Sentiamo allora le parole del Presidente dell'Associazione, Rosario Scalia. Non si placano ancora le polemiche riguardo il Carnevale di ACI Reale edizione 2017. L'Associazione Culturale Scalia Fichera, classificatasi al quinto posto in entrambe le categorie con i cari in perfetta meraviglia il pranzo e servito, attraverso un comunicato aveva chiesto un incontro con il Presidente della Fondazione per chiarire alcuni aspetti in merito alla graduatoria finale. Un confronto, si legge nel comunicato, costruttivo e chiarificatore, di cui anche lo stesso Sindaco Roberto Barbagallo si era reso disponibile ad organizzarlo tra la Fondazione del Carnevale, i giurati e le associazioni. Ma a distanza di circa due settimane dall'ultima richiesta, l'Associazione Scalia Fichera non ha ancora avuto una risposta, come spiega lo stesso Presidente, Rosario Scalia. Un incontro pubblico con la giuria o anche con il Presidente della Fondazione. Ad oggi apprendiamo che non abbiamo avuto nessuna risposta né noi e non nemmeno il popolo del Carnevale, di questo confronto pubblico. E quindi ne prendiamo atto di questo e quelli che erano i nostri dubbi sulla graduatoria finale diventano certezze. E quindi prendendo atto di ciò prendiamo le distanze dalla Fondazione, il quale non ci incontreremo più a parlare nelle riunioni, in tutto quello che si farà nelle comunicazioni delle cose, ma comunicheremo via raccomandata o con il nostro legale rappresentante. Da quando è che attendete questa risposta? Ma i comunicati sono stati fatti qualche settimana dopo, quindi già quasi da un mesetto, ma questo silenzio ci sa a voler dire che io credo che non abbiano nemmeno le parole per spiegare alcuni voti sulle schede. Quindi questo noi ne prendiamo atto e niente, per noi è finita qui. Senza noi come candiere non chiediamo più nulla. Ci hanno accertato con il loro silenzio i nostri dubbi sulla graduatoria, quindi va bene così. Il pubblico che ci guarda lo apprende pure. Rimanendo sull'argomento interviene ancora una volta il deputato regionale accese Nicola D'Agostino che in sette punti esprime la propria posizione. Il Carnevale 2017 è stata una grande manifestazione a memoria, la migliore di sempre. Le scelte artistiche ed organizzative sono state tutte giuste. Certo nessuno pretende la perfezione. Ed infatti i prossimi anni serviranno a migliorarsi. I verdetti delle giurie si devono sempre accettare anche quando appaiono ingiusti perché nessuno mette in dubbio buona fede ed onestà dei comportamenti. Se si ritiene incoraggiare un confronto bene, ma se ciò deve alimentare ulteriori ed inutili polemiche, allora meglio evitare o rimiliare. Tuttavia nei percorsi di miglioramento ci sta anche rivedere alcuni criteri, non per sconfersarli ma per dargli maggiore forza. Il caso della giuria è questo. Ottimo avere giurati indipendenti, meglio ancora se il risultato possa essere sostenuto da formule più partecipative. Tocca alla fondazione proporre, se lo ritieni, interventi migliorativi. Non ci sono dubbi che il Carnevale ha un solo interlocutore, la fondazione che è espressione dell'amministrazione che rappresenta un corpo unico. Per il resto credo che tutte queste polemiche possano interrompersi e tutti i protagonisti ritrovare il gusto di scommettersi, ritrovando le giuste motivazioni. Chiudo senza lasciare dubbi, conclude. Il presidente Belcuore e tutto il CDA hanno fatto benissimo in questi tre anni e devono continuare sulla strada del cambiamento e della sprovincializzazione. Il cantiere Scalia che è state dell'anima del Carnevale merita rispetto e mi pare che gli sia stato riconosciuto. Le due affermazioni sono perfettamente conciliabili al netto dei risentimenti personali e solo sfrugliamenti interessati e di parte politica avversa possono mettere in discussione la cosa. Il comandante della Polizia Municipale di Acireale, visto che da domani si procederà all'abitumazione della Via Vasta, tratto compreso tra Via Romeo e Via Angelo Raffaele, oggetto dei lavori di scavo per la pose in opera della fibra ottica, che istituisce pertanto dalle 7 di domani fino alle 14 del 25 marzo il divieto di sosta con rimozione e il divieto di circolazione lungo le seguenti vie. Via Vastea, ovvero nel tratto compreso tra Via Romeo e Via Angelo Raffaele, in Via Toscano, in Via Capitano di Notte e in Via Tiurbo. Con questo ci fermiamo per qualche attimo di pausa e riprendiamo tra poco con le altre notizie. Quanta strada fanno i tuoi occhi nella vita di ogni giorno e nel mondo digitale? Per farti vivere bene questo viaggio, Zeiss ha creato delle lenti ad alta tecnologia, adatte a ogni momento della tua giornata, anche quando usi dispositivi digitali. Lenti che non lasceranno che i tuoi occhi si stanchino di vedere, di viaggiare, di vivere. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss con tecnologia Digital Inside. Ottica Grasso, Adaci Reale, Concept Store, in Corsa Italia 122, Adaci Catena, in Via Matrice 34. Fermata Spuligni, se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo! Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spuligni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menu, potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla braccia. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet, fermata Spuligni. Ampie sale per feste e meeting, grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in Via Giacomo Matteotti 1, Angolo Via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Dal 1989 a Lingua Glossa, Sfizi di Sicilia, di Carmelo Cannavò. Vi aspettiamo nei nuovi locali, in Via Umberto, numero 3436. Se non ci conosci e vuoi assaggiare delle cose sfiziose davvero, fai un salto a Lingua Glossa. Da noi la salsiccia viene lavorata al ceppo e in sette diverse specialità. Vi offriamo i migliori tagli di carne rigorosamente locale, da bovini certificati da Scelta Iblea e Suino, bianco o nero dell'azienda Mulinello. Sfizi di Sicilia, carni preparati e una fornitissima salumeria di prodotti di qualità. Se vi è venuto uno sfizio, vi aspettiamo a Lingua Glossa, in Via Umberto 3436 095 6438 27. Vi aspettiamo! Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? Passando per Lingua Glossa, Fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in Via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive ravioli di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli perfumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in Via Roma 216. Fermatevi! Belle Epoque, il piacere della tavola. Cosa vi diamo di più? Dunque, oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza. Come la volete, tutti i gusti. La nostra specialità è lo stocco alla messinese o ad insalata. Belle Epoque, eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere, ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo, parco giochi per bambini, parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Epoque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo donatori sangue a Cireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 26 marzo, presso la sede di Via Paolo Vasta, 180 a Cireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 chili, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 27 30. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Seconda parte di DG Reporter, riprendiamo con le altre notizie parlando di sanità dell'ospedale di Cireale. La CGL Funzione Pubblica nel corso di un'assemblea dei lavoratori ha fatto una disamina delle problematiche esistenti. sollecitando così un incontro con la direzione sanitaria. Ospedale di Cireale, radiografato lo stato di salute del nosocomio acese nel corso di un'assemblea sindacale del personale della Funzione Pubblica CGL con l'intervento di Giovanni Valastro, coordinatore per il presidio acese e ancora con Angelo Melita, responsabile provinciale ASP Catania. Il primo ambito sul quale sono stati puntati i riflettori riguarda la persistente situazione del pronto soccorso che vede una popolazione di 220.000 abitanti dover fare i conti con attese esasperanti. Inoltre, nella stanteria, decine di pazienti per più giorni rimangono in attesa di un ricovero in un contesto totalmente insufficiente a garantire un'adeguata assistenza. In relazione alla sicurezza, nonostante i gravi episodi avvenuti, evidenziano i responsabili della CGL, non è prevista la presenza durante le ore notturne della guardia giurata, benché nel tempo vi siano state promesse ed impegni da parte degli organismi gestionali dell'azienda, che finora però sono stati disattesi. La situazione del pronto soccorso, connessa alla riduzione dei posti letto per acuti, porta a determinare un ricorso al ricovero di pazienti fuori reparto, divenuto ormai una consuetudine. Per ultimo, insieme, una ottantenne con un ragazzino, nonostante le formali contestazioni da parte dei lavoratori della CGL eppure le prese di posizione di diversi primari. Una inadeguatezza organizzativa gestionale che si ripercuote sul personale infermieristico a gestire situazioni per tipologie e complessità assistenziali diverse da quelle abitualmente in reparto. Durante l'Assemblea, inoltre, sono emerse carenze nell'organizzazione del personale di supporto operante nel servizio di radiologia e ancora nel laboratorio di analisi che vede un'insufficiente presenza del personale durante il turno notturno. Alla luce di tutto ciò, la CGL Funzione Pubblica ritiene opportuno perciò chiedere un incontro con gli organi gestionali e con la direzione ospedaliera. È stato convocato per questa sera a Santa Venerina il Consiglio Comunale. Alle 20.30 i consiglieri si riuniranno presso la Sala Consigliere Maria Grazia Cutuli per discutere dei diversi punti posti all'ordine del giorno, tra i quali un'interrogazione a firma dei consiglieri del gruppo impegno comune avente come oggetto mancata bollettazione acqua per il saldo anno 2014, a conto e saldo anno 2015 e a conto anno 2016. Un'interrogazione anche a firma dei consiglieri del gruppo impegno comune avente come oggetto la mancata attuazione della mozione relativa alla riattivazione della consulta giovanile e poi anche si eleggerà il vicepresidente del Consiglio Comunale, si discuterà pure del regolamento comunale per i servizi raccolta integrata dei rifiuti e infine anche la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Cambiamo invece argomento, festa grande questa mattina alla Scuola De Gasperi di ACI Sant'Antonio per la visita di un ospite speciale, il soprano Katia Ricciarelli, che è stata accolta a suon di musica dal coro della scuola alla presenza della dirigente scolastica Silvana Di Belle e dal sindaco di ACI Sant'Antonio Santo Caruso. Nell'elezione di domani, infatti, del nostro telegiornale daremo voce ai protagonisti della mattinata. L'illustre ospite intanto questa mattina ha presentato nell'occasione la sua ultima fatica letteraria vi canto una storia, l'opera raccontata ai ragazzi, scritta con Marco Carozzo. In copertina sei tra le opere più amate che si trasformano in vere e proprie fiabbe grazie alla voce di Katia Ricciarelli che accompagna i lettori in un mondo meraviglioso, fatto di musica, divertimento e magia. Atmosfera che si respirava intensamente questa mattina nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi di ACI Sant'Antonio, dove gli alunni si sono fatti di contagiare e trasportare dal momento musicale offerto da Katia Ricciarelli. Osa, 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 Eri, sta in fronte a te, sta in fronte a te. E ieri sera il soprano è stata anche la protagonista di un incontro che si è tenuto all'interno della sala conferenze dell'Associazione Costarelli. A Katia Ricciarelli infatti è stato consegnato anche il premio Essenza Donna 2017. Una serata dedicata alla cultura. L'Associazione Costarelli ha presentato ieri nel Salone Conferenze due libri dal titolo Vi canto una storia e Da donna a donna. Per l'occasione era presente il soprano, attrice e scrittrice Katia Ricciarelli che li ha presentati a quanti sono intervenuti all'incontro. Sei fiabbe raccontate ai lettori attraverso la musica. Fiabbe amate dai piccoli ma anche dagli adulti. Ansel e Greta, il cocenerentola, l'elisir d'amore, il barbiere di Siviglia, il flauto magico. Questo è ciò che viene raccontato dalla Ricciarelli in Vi canto una storia. Un racconto più intimo invece abbracciando dieci figure femminili dell'opera lirica e quanto si può leggere nel testo Da donna a donna. Al centro, la vita della soprano, le difficoltà e i sacrifici fatti che sono quegli stessi che vengono compiuti ogni giorno da tutte le donne. Alla Ricciarelli, conosciuta nel panorama internazionale della musica lirica, è stato consegnato il premio nazionale Senza Donna 2017 da parte dell'Accademia d'Arte Etrusca di Carmen Arena. Ad intervenire all'incontro moderato da Vera Pulvirenti, Marco Carozzo e Gianfranco Pappalardo. A promuoverlo il club per l'UNESCO ripostoggiare, la FIDAPA Cireale, l'Associazione Costarelli, l'Accademia d'Arte Etrusca. Sono le opere che lei ha interpretato, sono appunto trasformate in fiabe e invece l'altro è da donna a donna, praticamente la sua vita, la sua vita nel melodramma, ma la sua vita anche, diciamo, a confronto con queste roine che lei appunto ha dovuto così, e quasi si è anche medesimata in alcune. Sono entusiasta di essere qui perché adoro questa terra e basta guardarsi intorno e vedere quanta bellezza c'è. Le persone sono deliziose e il riconoscimento fa sempre piacere. Fino ad oggi è possibile presentare la richiesta di partecipazione al corso sperimentale di cinematografia organizzato dall'Associazione Cine Teatro Ambrosiana di ACI Sant'Antonio con il patrocinio del Comune di ACI Sant'Antonio. Il corso nasce con lo scopo di dare la possibilità ai giovani, a tutti coloro che lo desiderano, di dar sfogo alle proprie idee, mettere in atto la propria creatività, dare la possibilità di incontri. Si partirà con un progetto di formazione sperimentale gratuito con l'obiettivo di formare e sviluppare la ricerca individuale nell'ambito della cinematografia, intesa anche come elaborazione e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi usando mezzi e metodi innovativi. L'iscrizione può essere effettuata scaricando il bando dal sito dell'Associazione www.ambrosianacinematori.it. La partecipazione al corso è gratuita. Il bando e il numero delle domande, se alla scadenza del bando il numero delle domande supera il numero di partecipanti, ovvero 15, sarà effettuata una selezione mediante colloquio e test attitudinali. Oggi, mercoledì 22 marzo, ricorre la memoria mensile di Santa Rita, pertanto nella chiesa di San Rocco sarà recitato a partire dalle 18 il Santo Rosario e a seguire alle 18.30 la Santa Messa con la benedizione della reliquia. Salute invece al Costarelli, un ciclo di incontri che è stato organizzato che avranno inizio a partire da sabato. I dettagli nel servizio. Continuano gli incontri organizzati dall'Associazione Costarelli. Dal 25 marzo, presso il Salone Costarelli in Piazza Duomo 20, si parlerà di salute attraverso cinque incontri di medicina preventiva. Tra gli argomenti si parlerà di vaccinazioni tra passato e futuro, tema scottante che ultimamente sta scatenando numerosi dibattiti e poi ancora di prevenzione delle malattie cardiovascolari e di prevenzione oculistica. Agli incontri interverranno medici specializzati rispetto agli argomenti trattati e il direttore generale ASP di Catania e il dottor Giuseppe Giammanco. A moderare gli incontri di medicina preventiva sarà il dottor Giuseppe Giordano. Si parla di medicina preventiva. Questa volta la medicina esce fuori dalle aule dei convegni destinate ai medici, dagli ospedali, dagli studi e si rivolge direttamente al cittadino in quest'ottica di prevenzione per quanto riguarda diverse malattie. Abbiamo un calendario abbastanza fitto. Apriremo sabato prossimo, 25 con le vaccinazioni tra passato, presente e futuro. Proseguiremo quindi nel sabato successivo parlando del dolore lombare insieme al dottore Tropea e il nostro reumatologo acese e quindi l'8 aprile una giornata destinata agli otorini e inoltre contestualmente nel pomeriggio sempre dell'8 aprile verrà eseguito del tutto gratuitamente al cittadino un esame dell'udito. Proseguiremo ancora il 22 aprile con il dottore Scalia che è il dirigente medico dell'unità operativa complessa dell'oculistica del nostro ospedale e ci parlerà di occhio e salute attraverso l'occhio attraverso l'immagine dell'occhio sempre tramite lo specialista potremmo togliere le malattie principali che possono sfociare da una evidenza appunto oculare. concluderemo questi primi cinque incontri destinati alla prevenzione con l'endocrinologo Salvo Mazzarino e con il dottore Giuseppe Leonardi cardiologo presso il Policlinico di Catania loro ci parleranno di peso ci parleranno di cuore quindi diamo il giusto peso ai problemi di cuore con questo slogan appunto parleremo di problemi cardiaci e di stili alimentari di abitudini che cercheranno di essere così di aiuto per il cittadino a prevenire la maggior parte delle malattie cardiovascolari. E domani presso l'associazione Costarelli si terrà un incontro inserito all'interno del calendario le giornate della cultura il titolo dell'incontro sarà le migrazioni nel Mediterraneo cause ed esiti motivazioni e reazioni una riflessione che prenderà a spunto da due recenti volumi di Don Massimo Naro docente di teologia presso l'Università Pontificia San Giovanni Evangelista di Palermo al convegno interverranno oltre l'autore Cettina Minirola direttrice INP e il giornalista Giuseppe Di Fazio a moderare l'incontro salvofallica presente anche il vescovo della diocesi di Acireale Monsignor Antonino Raspanti festa invece di San Giuseppe una tra le tradizioni che vengono infatti osservate via quella dell'assaggio pasta e ceci una tradizione che è stata osservata anche a Guardia celebrata e partecipata alla festa di San Giuseppe a Guardia più di una tradizione popolare la tradizionale distribuzione di pasta e ceci che in origine veniva preparata per i poveri del paese e dei paesi limitrofi ha rappresentato un momento ricco di significato vissuto con partecipazione ed entusiasmo la festa come ormai da anni ha visto l'accoglienza dei più piccoli con canti balli e giochi nell'attesa che la pasta con i ceci fosse cotta e servita a tutti i presenti accompagnata dal pane e da un buon bicchiere di vino quest'anno una novità ha suscitato la curiosità e lo stupore di tutti lo spettacolo del gruppo sbandieratori antica Ibla Major di Paternò che hanno sfilato lungo le vie del paese esibendosi presso la chiesa della Sacra Famiglia la chiesa parocchiale la piazza Quattro Canti e infine si sono esibiti alla Villa di Guarni luogo dove si è tenuto l'evento lasciando un'impronta artistica alla giornata presenti alla manifestazione il sindaco ingegner Roberto Barbagallo i consiglieri comunali Giuseppe Calì e Valentina Pulvirenti e l'onorevole Basilio Catanoso il presidente dell'associazione Notti Magiche Salvo Cristaldi tracciando un resoconto mostra soddisfazione non posso afferma e non possiamo che essere fieri del nostro paese e della nostra storia diamo adesso uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani cielo sereno nell'arco della giornata temperature stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi tra i 12 gradi la minima 18 gradi la massima 20 deboli mari da mossi a poco mossi finisce qui l'edizione del nostro telegiornale che potete anche seguirla sulla nostra pagina facebook etnespresso channel trattino tg reporter l'appuntamento con l'informazione per domani alle 13 e 40 grazie della vostra attenzione grazie